Ave legionari, siamo alla seconda puntata della vita di Cesare, abbiamo lasciato Cesare che è stato rapito dai pirati. Allora vediamo questo che è un episodio fenomenale della sua vita. Cesare era in viaggio verso l'isola di Rodi, nel centro del Mediterraneo, perché era una tappa obbligata per tutti coloro che volevano studiare filosofia, politica, quando viene rapito dai pirati, che non è una cosa strana, perché i pirati infestavano il Mediterraneo e quindi accadeva spesso che rapissero delle persone e chiedessero un riscatto, solo che questa volta avevano rapito Cesare. Quindi cosa succede? Lui viene rapito, viene portato nell'isola di Farmacussa, che è lì vicino, lo vediamo nella cartina, e lì lo tengono prigioniero e chiedono 20 talenti per rilasciarlo. E secondo le fonti Cesare risponde, ma io non valgo 20 talenti, io valgo 50 talenti, e quindi dà una risposta sfrontata e provocatoria. Ed ha, ovviamente arriva il messaggio ai suoi contatti di radunare i soldi, e nel frattempo vive qualche settimana assieme a questi pirati. Ma non è un ostaggio intimidito dai pirati, al contrario, parla con loro, mangia insieme a loro, vive come un loro pari, anzi leggermente superiore, gli dà addirittura degli ignoranti senza particolare paura, e addirittura si mette a comporre delle poesie, le legge ai pirati, pretende che ascoltino i suoi componimenti e gli diano un voto, e in maniera più o meno scherzosa dice io vi farò prima arrestare e poi vi ammazzerò tutti perché non riuscite ad apprezzare la mia arte oratoria. A un certo punto, finalmente, con questo comportamento straordinario di Cesare, che sembra un comandante nato ovunque vada, anche se in teoria è un ostaggio, arrivano i denari, Cesare viene rilasciato, ma subito vuole vendicarsi. Chiede al governatore Iunco il necessario per catturare i pirati, ma Iunco in realtà non gli dà molta considerazione, anche perché politicamente era un po' lontano. Allora Cesare di sua iniziativa arma delle piccole navi, rintraccia tutti quanti quelli che erano stati i suoi carcerieri e li arresta, e a un certo punto li fa crocifiggere, dicendo scherzosamente vi avevo detto che vi avrei ammazzato, e così come unico, come possiamo dire, come unico gesto di amicizia li fa strangolare prima, in modo che soffrano meno. Ecco, questo è un episodio che fa veramente sorridere. Può essere sicuramente che le fonti abbiano un pochino esagerato, un pochino romanzato, ma certamente l'episodio è successo e rappresenta la psicologia di Cesare, cioè come lui si comporta durante le situazioni di pericolo. Riesce a prendere sempre in mano il destino e a portarlo dove vuole lui. Dopo questo straordinario episodio Cesare a un certo punto torna a Roma. Tornò a Roma perché ottiene dei primi incarichi. Innanzitutto è un pontefice. Un pontefice significa, non era come il papa di oggi, pontefice nel senso che gestiva alcuni culti religiosi romani, quindi era una carica media, e poi diventa tribuno della guerra, ovvero è una carica politica iniziale, adatta a un giovane rampollo, e durante questa carica lui comunque dimostra di voler ridare ai tribuni della plebe i poteri che gli erano stati tolti dalla riforma di Silla. Quindi vuole dare più potere a coloro che devono proteggere le masse e in questo modo rivela abbastanza quale sia la sua inclinazione politica. Abbiamo detto che lui è fortemente influenzato dai populares. Nel frattempo che avviene tutto questo, chi sono i consoli? I consoli sono Pompeo, che ha la forza militare, le legioni dalla sua parte, e Crasso, che è quello l'uomo più ricco di Roma, i quali anche se sono nemici l'uno verso l'altro per motivazioni politiche, che spiegherò in altri video, nel frattempo però sono andati d'accordo per forza per riuscire a raggiungere il consolato e quindi a imporre il loro potere. E durante il consolato di Pompeo e di Crasso, un consolato difficile, un consolato con molti attriti, in cui c'è veramente una tensione politica importante, Cesare riceve, fa un altro passo nella sua carriera politica e diventa questore in Spagna. Il questore era quello che doveva gestire le tasse e a volte poteva anche gestire un pochino l'amministrazione della legge, qualche volta poteva capitare. Lui prima di partire per la Spagna e fare il questore fa una cosa importante, cioè purtroppo in famiglia ci sono due lutti e lui propone una orazione pubblica. Muore infatti Giulia, cioè la sua zia che si era sposata con Caio Mario, e poi muore Cornelia, cioè la sua moglie. E qui fa due orazioni che sorprendono il pubblico, durante le quali fa dei riferimenti a Caio Mario e Populares e comincia un attimino a tradire la sua volontà politica, cioè dove vuole andare a parare. E quindi anche a livello politico si capisce che Cesare non è più così un giovane che sta sperimentando la vita, ma sta cominciando ad andare verso la fazione dei Populares. La sua questura in Spagna sappiamo dalle fonti che è un'ottima questura, cioè si comporta bene, amministra bene la giustizia e lascia dietro di sé un ottimo ricordo. Ricordiamo che la Spagna sarà molto importante per Cesare, si farà le ossa e qui costruirà tra le altre cose la base della sua fortuna. Però quell'incarico evidentemente non doveva piacergli moltissimo, perché chiese il congedo anticipato e ritornò quanto prima a Roma. E una volta ritornato a Roma fa una cosa importante, i Romani vivono molto di relazioni familiari, si sposa con Pompea, si sposa con Pompea che è una donna che non amava ma era molto ricca e gli permetteva, quindi ovviamente gli finanziava la sua vita, la sua vita di soluta, di divertimenti, non era certo uno che se ne stava fermo, era un uomo a cui piaceva assaporare la vita e poteva essere ovviamente un ottimo foraggio per la sua attività politica. Fino a questo momento, però attenzione, noi vediamo un Cesare di cui abbiamo capito che si sta muovendo, abbiamo capito che è verso i populares perché è cresciuto in questa famiglia e all'ombra di questa fazione politica, però è ancora così, la politica romana non è riuscita ancora bene a inquadrarlo e invece un grande, grandissimo momento di svolta nella vita di Cesare avviene quando diventa un edile. L'edile chi è? È colui che deve occuparsi non solo delle case ma delle strade, delle fogne, della manutenzione cittadina. Lui ottiene questo incarico, è un incarico anche commisurato al suo valore, alla sua età, quindi è un ottimo passo in avanti, diventa edile e diventa edile assieme a Bibulo. Bibulo, che diciamo vedrà in Cesare un incubo per il resto della vita, Bibulo è un appartenente alla fazione degli ottimati, quindi un suo avversario politico e insieme fanno gli edili perché Roma tendeva a distribuire le cariche politiche tra una fazione e l'altra in maniera equanime e praticamente Cesare e Bibulo si devono occupare della edilità, dell'edilità di Roma. Che cosa accade? Accadono una serie di cose importanti. Cesare, che è un po' uno squattrinato, impone la sua volontà su Bibulo, sfrutta i soldi di Bibulo per organizzare dei grandi giochi. Sono dei giochi straordinari con moltissimi gladiatori, delle bestie feroci che dura tantissimi giorni, cioè è veramente un evento gigantesco. È un evento gigantesco che però, attenzione, non è solamente un evento di divertimento, ma è anche una esibizione di potere politico e in realtà anche di potere militare. Se sfilano per le vie della città migliaia di gladiatori armati è anche un'esibizione di potere militare. Quindi questo è qualche cosa che un pochino annuncia la sua volontà decisa, definitiva, di entrare in politica. E poi c'è un altro atto molto importante, cioè lui, sfruttando la sua posizione di edile, riesce a far rimettere in piedi delle statue di Caio Mario. E questo è veramente un grosso annuncio politico. Questo significa io sono un populares, sono in politica, voglio darmi alla politica e ho scelto definitivamente questa fazione. Tanto è vero che queste azioni, specie quella delle statue, suscitano un dibattito in Senato, perché Caio Mario comunque, essendo stato sconfitto, era stato un pochino accantonato come figura politica. Quindi l'edilità è sicuramente il momento in cui Cesare, con una serie di azioni calcolate, si dichiara e dimostra quello che vuole fare nella vita politica romana. In realtà non Cesare ha anche delle altre idee. Per esempio lui vorrebbe concedere la cittadinanza ai galli transalpini, oppure vorrebbe far diventare l'Egitto un protettorato, addirittura una provincia romana, sfruttando una serie di problemi testamentari tra gli eredi del trono d'Egitto. Però queste misure vengono bloccate dal Senato perché ovviamente sono misure un po' troppo azzardate, quindi è ovvio che gli avversari politici riescono questa volta a imporre uno stop. Quindi con tutte queste azioni e con tutti questi avvenimenti Cesare fa il suo debutto in politica, ma questi anni sono anche fortemente, sono importanti e sono delicati perché proprio in questi anni avviene la congiura di Catilina. La congiura di Catilina, ovvero un enorme attentato alla sicurezza dello Stato, che ruolo ha Cesare? Partecipa, non partecipa? Era dalla parte di Catilina oppure no? Questo è qualcosa che rimane un pochino avvolto nella storia. Probabilmente, probabilmente Cesare partecipa ma fa in tempo a defilarsi all'ultimo minuto per non finire anche lui ucciso nella battaglia per reprimere Catilina. Insomma siamo alla soglia di uno dei momenti più pericolosi, quasi terroristici della storia repubblicana ed è il punto di partenza del prossimo video. Visto che se non vi minaccio non siete contenti, questa volta per non essere accomunati a Catilina ed essere incarcerati dovreste per cortesia iscrivervi al canale, altrimenti verrete considerati come seguaci di Catilina e quindi ovviamente arrivano, vi tolgono i beni, vi tolgono il tavolo, insomma vi tolgono una serie di cose che sono fondamentali per la vita. Quindi vi do appuntamento molto volentieri, al prossimo video e alla prossima! Grazie a tutti!